Ma come mai fuori non funziona e qui sì? Yeah, we can! In vista delle festività natalizie e soprattutto delle due vigilie, il 24 e il 31, l'amministrazione comunale ha predisposto un apposito piano di sicurezza. Sì, abbiamo già fatto una conferenza dei servizi il 21 per organizzare il controllo sugli aperitivi musicali che si faranno nei Mario Weekend, quindi compresi il 24 e compresi il 31. Quindi ci sarà una presenza costante dei vigili urbani a piedi sul corso principale. Poi il 28 abbiamo un'altra conferenza di servizio con tutti gli operatori interessati per organizzare il controllo della sicurezza della notte bianca del 5. L'organizzazione è stata già predisposta, il comandante cicarese è molto attivo, in prima persona scenderà anche lui in strada a controllare il territorio. Poi un'altra cosa importante che voglio dire è che abbiamo anche acquistato un etilometro e quindi a breve, di concerto con la Polizia di Stato, inizieremo anche a fare i controlli sulla movida, sui giovani, naturalmente sul controllo dell'abuso di arcol. Abbiamo acquistato auto nuove, abbiamo in programma per il 2023 l'assunzione dei vigili, quindi voglio dire che ci sta molto attivismo da parte della Polizia Municipale.